Arianna ma non si non si può fare queste cose e dai e dai che c'è il rospatore amore che ti stai aspettando il pozzetto pur te perché devo aver portato senti qualche settimana aspettando non è buono? ecco, che rosi, che rosi, guarda sotto davanti che rosi? oh, chiede tanto di guadaglio guadaglio, 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 guadaglio ma non è buono se da sola che ti stai a fare i pagioli, quando mai fai i tuassoate come si deve lì? adesso, ma non? scoppia no, io voglio fare il piatto quello tipico brasiliano fagioli con i tuassoate come si chiama? fagioli con i tuassoate riso bianco guarda, quando cazzo vuoi fare? ora sta facendo il picco? un po' di censura? si, quando la chiamali? chiamali, faina, faina, bianco, valemma io faina, no, faina faina, 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 faina faina, faina, faina faina faina, biancone e maremma faina, biancone e maremma questo è il barzuruzzo del marimma e perché tengono luci faina, faina, forse faina biancone biancone, forse maremma Marema, basta gli ultimi vestiti e basta, sennò puoi farne uno o qualcosa per un po' di tono.